Musica Parliamo di carolibri, come ogni inizio di anno scolastico le famiglie italiane con figli in età scolare sopportano una gabella che alle volte è troppo pesante per il bilancio familiare libri usati, libri riciclati e quant'altro non sempre riescono ad ammortizzare la spesa i continui aggiornamenti di testo alle volte rendono questo escamotage assolutamente inefficace ma ora per le famiglie marchigiane e quindi anche per quelle fanese che ne abbiano i requisiti ci sono fondi a disposizione per abbattere questa pesante voce di capitolo nell'economia familiare La Regione i giorni scorsi ha fatto il decreto, il 171, che definisce le procedure gestionali per la fornitura di libri gratuiti e semi gratuiti per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. I requisiti per poter avere questo beneficio sono essere residenti nel comune di Fano, appartenere a una famiglia il cui indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE per facilità, riferito ai redditi 2014 non sia superiore a 10.632,94 euro e presentare ovviamente nei tempi stabiliti, cioè entro il 26 ottobre, la domanda all'ufficio di ritorno studio dei servizi educativi. La domanda può essere compilata direttamente presso questo ufficio dei servizi educativi del comune di Fano in via Vitruvio numero 7, oppure il modulo può essere stampato dal sito istituzionale www.comune.fano.più.it e inviato via fax al 0721-887300, oppure, per chi l'avesse, essere inviato con una posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica che è comune.fano-servizieducativi-chiocciola-emarche.it. Ricordo, perché questo è importante, che la domanda deve pervenire all'ufficio entro e non oltre il 26 ottobre. La pesante crisi economica che dal 2009 ha portato indietro le lancette dell'orologio dell'economia e dell'occupazione italiana di decenni, ha trasformato anche il modo in cui domanda e offerta si incontrano. Annunci online, aziende interinali, mediatori e la rete aiutano molto, ma a volte i metodi tradizionali riservano delle piacevoli sorprese. Centro per l'impiego e carta stampata, a frequentarli e consultarli, ci dicono che nella nostra provincia ci sono 17 posizioni lavorative da coprire per 10 aziende che vogliono inserire queste persone nel loro organico. Il Conservatorio Rossini di Pesaro cerca un coadiutore a tempo determinato, un addetto di telemarketing con esperienza per un call center a Pesaro, mentre a Fano serve un ingegnere elettronico e delle telecomunicazioni anche con breve esperienza lavorativa. Per l'entroterra di Mondolfo serve un impiegato commerciale per l'ufficio estero con ottima conoscenza di inglese e francese. Un laureato per controllo qualità con esperienza serve su Pesaro e che conosca la normativa ISO 9001. Due ingegneri meccanici gestionali invece anche con breve esperienza per un ufficio tecnico di Pesaro sarebbero assunti. A Urbino invece cercano due saldatori con esperienza di disegno tecnico e che servono a un'azienda artigiana. Opportunità anche per due neolaureati ad indirizzo meccanico per controllo numerico in un'officina peserese, mentre uno studio odontoiatrico assumerebbe un assistente di poltrona con esperienza e buone possibilità di inserimento diretto. La zona di lavoro è Pesaro. Un pizzaiolo serve nella zona di torrette di Fano ed infine ben cinque addetti al montaggio meccanico possono essere inseriti in un'azienda pesarese con esperienza nella lettura del disegno meccanico. Il ricordo di figure come quella di Don Achille Sanchioni, il parroco in bicicletta, anteliteram di Don Matteo, povero prete di grande carità e modestia, che tutto donava agli altri e nulla teneva per sé, è un ricordo indelebile, prima che nella mente dei fanesi, nell'animo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di vivere il suo sacerdozio. Una memoria che va perpetrata nel tempo e nelle generazioni che seguono perché la sua opera, il suo modo di interpretare la missione non si sbiadiscano e non cadano nell'oblio. A questo sono servite le tante serate manifestazioni intitolate a suo ricordo. A questo servono anche il docupilm di Paolo del Bianco, che già nel titolo annuncia l'essenza delle immagini, il prete dentro di noi. A questo è servita la serata organizzata dal gruppo Amici di Don Achille venerdì scorso. A questa serata è stato dato il titolo del prete buono, ma Don Achille non è stato solo il prete buono, è stato il prete umile, il prete generoso, il prete che non ha conservato nulla per sé, che ha dato tutti i poveri fino a vivere e morire in assoluta povertà. È stato coadiuvato in questo suo ministero dalla sorella, la dolcissima signora Iole. Don Achille è stato il prete della più grande parrocchia di Fano e è stato nominato sacerdote nel 1936 e all'epoca la parrocchia di Don Achille comprendeva parte del centro, la zona del Don Gentili, via Chiaruccia e Sant'Orso, fino ai confini di Belocchi, il vallato, il campo d'aviazione e tre ponti. Il gruppo si è fatto portavoce anche presso il vescovo Monsignor Trasarti di avviare il processo di beatificazione di Don Achille e il vescovo non ha certo perso tempo e ha avviato subito la procedura per la quale però servono testimonianze sull'opera del prete buono. Per inviare una mail con foto, documentazioni, testimonianze e materiali utili alla causa è